Il Dram Circle Quindi non c'è da scherzare Il carro è più forte, più forte, più forte Esegna un'appunto in cui si tratta di un prodotto Abbiamo anche degli avanti E' un po' molto più sviluppo Per bene ci si tratta di tutti E la cosa particolare è proprio il fatto Che è il gruppo più più spettacolo Noi stiamo in quanto riguarda dei facilitatori Grazie a tutti.